Bisogna iniziare da qualche parte. Ciao! Sono io, sono qui da diversi anni, non sono mai riuscita a portare a termine nulla, perché sono così. Io inizio una cosa e poi non la finisco, potrei essere una persona appassionata di una cosa sola, in realtà non è così, ma ho un obiettivo. Da qui a un anno, dopodiché magari lo cambiamo, vedremo come si evolverà in quest'anno, più che altro perché sarà complicato. Vi spiego anche il perché sarà complicato, perché io ovviamente non sono una persona adatta a fare questo tipo di cose. Quindi sono un pochino preoccupata, però mi sono detta, Clara, se non ora, quando? Quindi la mia idea qual è? Correre la maratona di New York il prossimo novembre. Novembre 2025. Vi spiego perché. Torniamo un attimo indietro. Stavo parlando con una mia amica che abita a Londra, appunto a questa mia amica le stavo spiegando che vorrei fare qualcosa che mi rendesse fiera di me. Che non per forza deve essere raggiungere il lavoro più figo, guadagnare tantissimi soldi, essere la migliore in qualcosa. Io vorrei riuscire a portare a termine qualcosa ed essere orgogliosa di me. Cioè di riuscire ad averlo fatto. E lei parlando mi fa, eh, dovresti fare una cosa che ti piace fare? E io, ma mi trovo bene a fare sport. E lei, ah, per esempio lo sport è una delle cose che ti dà più soddisfazione se riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. E io, eh sì, però non sono in grado di fare chissà che cosa. Lei mi ha detto, ma secondo me invece sei più in grado di quanto immagini. Perché io non sono mai stata brava in niente. Non sono mai riuscita a raggiungere degli obiettivi epocali. Mai. Sinceramente mai. Però, cosa sono riuscita a fare nella vita? Migliorarmi. Come persona. Non sono al 100%, ma potrei anche essere molto meno di così. Per esempio, io non ero brava a fare nessun tipo di sport. Mi sono scoperta una persona non così malaccio, non così disgraziata nel fare sport. Questo perché? Perché io sono nata con la paura di non riuscire a fare questa cosa. E indovinate un po'? La paura è tutto ciò che ci blocca. Quindi mi sono detta Clara. Provoci. E quindi questo sarà il mio videodiario di me che provo a correre la maratona di New York. E lo metterò qua su YouTube perché me lo voglio ricordare tutta la vita. Se non ci riesco, sinceramente, pazienza. Ci ho provato, tipo ho lavato questa maglia e continua ad essere sporca. Non so se si vede, continua ad essere sporca. Ho lavato questa maglia, ho messo lo smacchiatore e continua ad essere sporca. Speriamo che questo obiettivo mi risulti più facile da ottenere. Ah, tra l'altro io ho lavato anche questa camicia e vi faccio subito vedere una cosa divertente. Sì, bucata. Spero di riuscire a fare sport meglio di quanto io riesca a prendermi cura della casa. Ho iniziato a leggere dei libri che potessero aiutarmi a migliorare la mia situazione mentale. Perché? Perché sono una persona che tende a buttarsi giù. Per tanti anni mi sono lamentata della solitudine, quando in realtà la persona che l'ha cercata più di tutte sono stata io. Mi lamentavo con gli altri di cose che non ero riuscita a fare, quando in realtà l'unica persona che non è riuscita a fare qualcosa sono io. Non è che io non ci sono riuscita per colpa degli altri. Non ci sono riuscita perché non mi sono messo abbastanza impegno. È semplice. Se vuoi fare una cosa, la fai. Se vuoi ottenere una cosa, la ottieni. Devi solo volerlo. E io non l'ho mai voluto fino in fondo, probabilmente perché ho vissuto in una situazione che alla fine mi ha portato ad accontentarmi, a stare bene così, capite? E quindi ho lasciato perdere, non sono stata abbastanza brava. E questo cosa mi ha portato a fare? Mi ha portato a non pretendere abbastanza da me. Non riuscire a volermi prendere quello che mi spetta. Delle soddisfazioni. Spero che con questa cosa io riesca a migliorare un po' di più il rapporto che ho con me, capite? Cioè, come mi vedo io. E leggendo questi libri ho deciso anche di fare un cambio di mindset perché vi spiego anche questo. Io mi sono sempre ritenuta una persona molto molto sola. Cioè che non riusciva mai a trovare qualcuno. Con pochi amici, che non è mai riuscita a mantenere dei legami stabili con le persone. Invece ho provato a ribaltare la situazione grazie alle letture che ho fatto e mi sono resa conto che non è tanto il fatto che io mi sia accontentata. È il fatto che io non l'abbia fatto. È il fatto che io non abbia scelto di farmi andare bene una cosa che non mi stava bene. Quanto cambia il senso di quello che dite? Quando cambiate voi stessi il modo in cui lo pensate. Io in realtà non mi sono mai accontentata. Perciò la mia solitudine era dovuta al fatto che in quella circostanza non mi trovassi bene. Non mi trovavo bene con quei determinati amici. Non mi trovavo bene in quella relazione. Non mi trovavo bene a farmi andare bene le cose. Ho iniziato terapia e tutto ha iniziato a prendere una forma diversa. Quindi secondo me sarà una bella storia. E anche una bella sfida. Perché vi dico la verità, sono un po' spaventata. Perché tornando al nostro obiettivo principale che è quello di correre la maratona, io non sono un'atleta. Come mi sono mossa dopo aver scelto di voler correre la maratona di New York? Innanzitutto l'ho detto al mio personal trainer, il quale mi ha guardato prima con sospetto e poi mi ha detto «Claro, secondo me ce la puoi fare, un secondo». Ho sicuramente detto di dovermi allenare, di dover tenere conto di prenderla abbastanza seriamente. Però mi ha detto che ce la posso fare. Ho scaricato un'applicazione, ve ne parlerò dopo, perché volevo ancora fare una precisazione. Io ho corso negli anni precedenti. Cos'è che mi aveva sempre bloccato dal riuscire a migliorarmi come atleta? Il fatto che io considerassi lo sport una punizione invece che qualcosa di bello. Capite il senso? Cioè io facevo sport perché ero grassa. Non ero grassa. Spoiler. Però non mi vedevo bene. Quindi dovevo fare sport per punirmi perché avevo mangiato la pizza e il gelato. Invece oggi non è più così. Faccio sport perché mi fa stare bene, perché mi rende felice. E rendendomi felice mi dà modo anche di migliorarmi come atleta. Vi dicevo che ho scaricato un'applicazione che si chiama Runna. Mi trovo molto bene perché mi ha fatto un piano di allenamento per raggiungere i 10 km nel giro di due mesi. Quindi vedremo anche come andrà questa cosa. Adesso vi racconto nel prossimo video la mia prima settimana. E così vi faccio anche vedere come mi sono sentita perché ho fatto delle riprese. Non sarà semplice. Però Sono carica. Sono carica. Soprattutto sto cercando di acquistare un po' di dimestichezza con la camera perché non... Cioè io faccio video di mio ma con la videocamera non sono tanto portata. Quindi spero che abbiate un po' di pazienza e vogliate darmi anche voi un po' di rispinta. Secondo me l'avrò bisogno di... come dire... Un po' di motivazione. Cioè spero che... Spero di riuscire a fare questa cosa perché se no sarebbe l'ennesimo fallimento della mia vita. Ma i fallimenti dipendono da me. Quindi non è neanche giusto che io continui a dare delle colpe. A chi le colpe non le ha. Ce lo so io. Quindi solo io ho il coltello dalla parte del manico. Solo io posso vincere o perdere. Sono emozionatissima. Però mi sta dando una carica. Perché io qua non ero tanto felice. C'è anche il fatto di stare a Torino. Alla fine mi ha portato un sacco di persone. Un sacco di conoscenze. E sì insomma non è che non mi trovo male. Anzi riesco anche a fare il lavoro che mi piace. E' ovvio che delle volte vorrei lasciare tutto e partire. Vorrei andare in America. Andare a vivere in America. Fare le cose che vedo online. Lasciare tutto. Buttarmi e riuscirci. Ho paura. E quindi per me la corsa è un po' quella via di mezzo tra non fare niente e fare qualcosa. Anche perché nel caso mi torni indietro qualcosa sarebbe qualcosa di bello. Perché avrei comunque ottenuto degli obiettivi a cui tengo. Che sono quelli del miglioramento sportivo. Non lo so amici. La vedo difficile. La vedo veramente una grande sfida. Ho paura a fare questo video. Perché ho anche un po' paura. Insomma a mettermi in gioco. Perché non è facile. Soprattutto non è facile mettersi in gioco online. Avete già visto magari qualche shorts. Di me che vado a correre perché ho iniziato da una decina di giorni. Non parto proprio da zero. Io ho sempre corso un po'. Ma ho sempre corso, come dire, perché avevo del tempo e quindi andavo a correre. Non mi sono mai preoccupata di migliorare le prestazioni. Quindi sarà una cosa differente. Differente. Adesso vi faccio un video su come mi sono trovata. Niente, questo è il primo video. Che è un po' così a caso. Vi prego di scusarmi. Se vi va di supportarvi potete iscrivervi a questo canale. Questo canale nasce molti anni fa. Però ho sempre oscurato i video perché mi vergogno. Ma alla fine, secondo me arrivati ad un certo punto della vita non bisogna più vergognarsi. Bisogna buttarsi e prendere in mano le retini. Vi faccio anche un video sui libri che ho letto. Su quelli motivazionali che mi hanno aiutato tantissimo a cambiare il mio mindset. E effettivamente per la prima volta nella vita, e non solo per dirla a qualcuno online, facendo finta, mi trovo veramente bene. Cioè mi trovo meglio di come io sia sempre stata. Di come la mia mente mi abbia sempre giocato dei brutti scherzi. Ogni tanto tendo a buttarmi giù. Però quando succede riesco a rendermi conto che sta succedendo e in automatico porre rimedio a questa cosa. Non è da sottovalutare. Sono contenta. Dai, sarà un bel percorso. Spero che lo guarderete insieme a me e sarete felici di questa cosa. Magari lo faremo insieme. Cioè scegliete un obiettivo che volete portare a termine. E un qualcosa che avete sempre rimandato e che vorreste fare. Facciamolo insieme. Se vi va. Basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.